Apro una parentesi, molto probabilmente domani già annunceremo il primo acquisto e domani ne abbiamo primo dicembre. Detto, fatto, come annunciato dal presidente Aldo Rosselli ai microfoni di Telesveva, il dicembre della Fidelisandria si è aperto con un annuncio in entrata. Risto Gogovski, classe 93, bulgaro, professione centrocampista, arriva dal Molfetta dove nella prima parte di stagione del campionato di Serie D ha messo insieme cinque presenze. Fisico e molto abile, soprattutto in fase di interdizione, nello scorso campionato il 27enne ha vestito la maglia del Gravina con 18 presenze condite da due reti. Gogovski è stato già a disposizione di mister Gigi Panarelli alla ripresa degli allenamenti nel pomeriggio di martedì, ma non sarà di certo l'unico movimento di mercato previsto da una società che ha divorziato dall'ex DS Riccardo Di Bari e non interverrà con l'arrivo di un omologo nel ruolo. In lista ci sono degli addii come quelli di Under, come Adusa, Dipinto e Notaristefano e con la posizione di senior quali Minincleri e Busetto in corso di valutazione. Tra i profili valutati ci sono un trequartista che possa assicurare l'adeguata alternativa a Prinari e Russo e un attaccante che faccia da ricambio a Cristaldi. Tasselli che dovranno permettere il salto di qualità a un organico che nei primi sei turni di campionato ha messo insieme sette punti, frutto di due vittorie, un pari e tre K.O. e che ripartirà nel suo cammino domenica 13 dicembre con la trasferta sul campo della Versa.